...di che roba, ne? Come va il dente? Ah, non c'è pace fra gli olivi, scusa, ho sbagliato. Non c'è pace fra gli olivi, di Raul Casadelli. Ah, sì, di secondo Casadelli. Bravissimi, campioni, campioni. Le fise armoniche di Lorenzo e Alessandro. Non c'è pace fra gli olivi, di secondo Casadelli. Grazie a tutti. E sì, senti che roba, eh? I campioni Alessandro Bracco e Lorenzo De Dominici. Sono loro, sono bravi, sono giovani, sono campioni. E sì, senti che roba, eh? E sì, senti che roba, eh? Sì, sì, grazie.